Oggi ci servono i pesetti, hai preso anche i tre, hai fatto bene, hai fatto bene, brava, molto brava, ci scaldiamo, allora oggi non ci sarà la signorina Tabata, ci sarò io, non siete contente? Giro, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora, otto, sette, sei, sentite che dolce che è questo inizio, tre, due, ma non preoccupatevi che oggi li scalderemo così tanto i glutei che non li sentirete più, e su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e avanti, avanti qui, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, lato e avanti, un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e stop, passo puntato e su, due, tre, quattro, cinque, sei, i pesetti già ma, fa niente, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, torsione qui, e uno, due, tre, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ok, ok, mi fermo qui, doppio, 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 uno, qui, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, quattro, tre, due, uno, rimango, mezza punta, giù, mezza punta, giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. 4, 3, 2, 1, gambe larghe sulle braccia, mi giro, scendo, giro, giro, salgo, centro. Cambio parte, giro, qui, e su, qui, due, qui, giro, scendo, lato, su, ancora una volta. Qui, e centro, giro, salgo, qui, e scendo, giro, salgo, ed ora da qui, giro, senza la torsione del busto. 8, qui, guardate che brava oggi, un inizio dolce dolce. 3, qui, 4, qui, 5, 6, 7, 8, stop. Prendiamo i pesesti da 1, ora, su, giù, 1, qui, 2, qui, 3, qui, 4, qui, 5, 6, 7, 8, e ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Passo e chiudo. 4, 3, 2, 1, mezzo, qui, alzo frontale. 1, qui, qui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Passo e chiudo. Come va? Finissimo. Prendete i pesi, li porto qui e vado avanti, torno, vingo, qui, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Come va? Benissimo. Continuiamo. Da qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Il giamma si sta facendo con 2 kg. Va bene ugualmente? Va bene ugualmente con 2 kg? Non è troppo? Va bene. Ora, pronti? Lo rifacciamo, ma veloci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Come va? Un po' meno bene. Come va? Un po' meno bene ancora. Qui, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Non me lo chiedo più. Non mi lamentate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Siamo scallati? Bene. Possiamo cambiare i pesetti e prenderli un po' più pesanti. Ok. Un piede davanti, uno dietro. Cosa andiamo a fare? Da qui. Giro, scendo, su. Giro, qui, scendo, e giro, e giù, qui, uno, qui, giù, due, scendo. Oh mamma, che perdo l'equilibrio. Quattro. Cinque. Sei. Quattro. Otto. Sette. Ancora. Otto. Sette. Sei. Sei. Cinque. Quattro. Sette. Tre. Due. Voi non perdete l'equilibrio. Voi non perdete l'equilibrio. E uno. Dobbiamo cambiare gamba. Qui. Si passa verso l'esterno, interno, giù. On. Qui. Giù. Due. Giù. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Otto. Sette. 6 5 4 3 2 e 1 come va? ora ancora una serie passando dall'interno quindi qui passo dall'interno scendo ok? prima siamo passati dall'esterno andiamo interno giù 2 giù 3 giù 4 giù 5 giù 6 giù 7 giù 8 giù e ancora 8 7 6 5 ho perso l'equilibrio 4 3 2 e 1 bene ora passiamo dall'interno con l'altra gamba davanti vado interno 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 e 1 stop 6 5 6 6 6 7 9 10 11 12 15